non c'è pace per riva vena sud la zona è da mesi in preda allo spaccio di droga e alla maleducazione specie notturna di non pochi giovinastri che scorrazzano anche con lo scooter lungo i portici della fondamenta da cale san giacomo a corte taccheo durante l'estate il bar al baccaro tra il ponte scarpe cale furlanetto allora gestito da alcuni membri della famiglia veneziani era stato anche chiuso dalla polizia in quanto quartiere generale dello smerso di stupefacenti è proprio il titolare dell'esercizio diego ardizzo che sta faticosamente cercando di ripartire nella legalità per assicurare al quartiere un presidio e un punto di riferimento si è trovato negli ultimi tempi oggetto di atti di vandalismo da parte dei soliti notti due settimane fa i vandali hanno colpito i fari di illuminazione esterni al locale la scorsa settimana è stato dato alle fiamme il controller del videocitofono e la scorsa notte i cavi della corrente elettrica sono stati asportati e fatti trovare a pezzi ardizzo aveva già provveduto a presentare denuncia per i precedenti episodi vandalici e martedì si reccherà di nuovo al commissariato di pubblica sicurezza ma non è l'unico a resistere anche il bar adiacente si sta mobilitando in questura per denunciare lo stato delle cose con l'esigenza di guardiania notturna e dell'accensione di alcune telecamere dal canto suo il vicinato cerca anche di raccogliere firme per sensibilizzare la questione ma la paura di esporsi in prima persona è ancora tanta verso il natale spunta però un raggio di sole proprio di aguardizzo assieme al comitato spontaneo fra gli esercenti della riva ha ottenuto dall'assessore isabella penso i fondi e la possibilità di installare decine di alberelli natalizi lungo la fondamenta e sui ponti non solo per l'atterare visitatori e clienti ma anche e proprio per viverla meglio assieme ai residenti stessi nella speranza che anche le piante non siano oggetto di atti sconsiderati e criminali arrivano i fondi regionali e isola verde può cominciare a vedere attuata la riparazione dei danni che alla fine di ottobre hanno messo in ginocchio la renire a montana 2 milioni infatti riporta il gazzettino in edicola oggi i finanziamenti per le opere a protezione del litorale si tratta della costruzione di 7 barriera pennelli in pietra oltre all'allungamento di quello vicino alla foce dell'adige il ripascimento artificiale della sabbia e alcuni interventi contro l'erosione 13 boi di colore giallo delimiteranno l'area di 3 chilometri e mezzo fra i due fiumi che la capitaneria di porto ha vietato alle immersioni e all'ancoraggio i lavori andranno avanti fino a febbraio per la soddisfazione degli operatori turistici che così potranno iniziare la stagione balneare 2019 senza cantieri aperti a chi oggi si sa piace fare le cose in grande e così quello che da altre parti a cominciare dagli stati uniti ormai si sta consolidando come black friday il venerdì degli sconti generalizzati a un mese da natale in città diventa black weekend sono molti infatti i negozi del centro storico che hanno allargato anche la giornata odierna di sabato e alla domenica l'applicazione dei saldi anche per contrastare gli effetti delle vendite online che non conoscono orari di chiusura degli esercizi le offerte vantaggiose sono rappresentate da manifesti neri e rosa ben visibili sulle vetrine coinvolte il sipario sull'iniziativa calerà domani sera gli insegnanti della scuola media paolo sesto vi invitano all'open day che si terrà giovedì 29 alle ore 17 è la possibilità di un percorso interattivo dove vedrete come gli insegnanti lavorano con i ragazzi avrete la possibilità di vedere un clima dato da una cura alla persona un'attenzione a quello che si insegna la modalità vedrete un lavoro d'inglese vedrete le attività di coding vi aspettiamo numerosi a luogo oggi in tutta italia la 22esima giornata nazionale della colletta alimentare anche a chi oggi è sottomarina 22 supermercati aderiscono all'iniziativa ospitando al loro interno i 350 volontari della fondazione banco alimentare che raccolgono il cibo donato dai clienti per inoltrarlo a chi sta peggio hanno offerto collaborazione la caritas la protezione civile l'associazione nazionale bersaglieri la cooperativa impronta l'associazione beretta molla la vuls l'associazione il faro gli scout della gesci oltre alle scuole paolo sesto liceo veronese istituto cestari righi nel corso del 2018 il banco assistito nel territorio crudiense 190 famiglie e 510 persone fisiche con una media di 27 quintali di genere alimentari al mese distribuiti tramite una rete di 70 volontari per quanto riguarda i prodotti si tratta soprattutto di merci a lunga conservazione destinate alle mense pubbliche ai centri di accoglienza ai tanti ambiti della solidarietà cattolica e laica anche una volta spenti i riflettori sulla giornata della colletta la fondazione banco alimentare è ogni giorno in prima linea nel contrasto allo spreco di cibo nel 2017 sono state recuperate raccolte e poi distribuite 66 mila tonnellate di alimenti che hanno raggiunto circa 2 milioni di bisognosi su tutto il territorio italiano appuntamento con la grande danza questa sera all'auditorium san nicola di chioggia ove dalle ore 21 per la rassegna acqua alta la compagnia mm porterà scena coreografie ispirate alla carmen di bisè e al bolero di ravelle il lavoro di emanuele soavi e michele merola è strutturato in due parti la prima bolero è un meccanismo dell'orogeria della rigorosa precisione in grado di evocare immagini di sensualità a tratti ambigua merola si è confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva cercando di comprenderne l'identità e focalizzandosi infine sulla varietà di umori che circolano intorno e dentro al rapporto di coppia nella seconda parte invece carmen suite di emanuele soavi immerge lo spettatore nella trama fatta di sottili relazioni di equilibri e di ricami tra tensione e sospensione dove movimenti e gesti vanno letti oltre l'apparente eleganza i biglietti ancora disponibili costano 12 euro per l'intero e 8 e ridotto la stagione di quattro spettacoli è organizzata dal centro formazione danza e ginnastica amici di netto gazzur e meteo brollo buongiorno a tutti e buon sabato oggi ci troviamo alla cam il centro dottori moluschi di località saloni chiozza vicino al centro che vi propone naturalmente un'ottima scelta di pesce fresco e congelato e vi ricordo che anche oggi come ieri va in vigore il black friday quindi per tutta la giornata pesce scontato del 10 per cento alla cam tornando poi a quello che è il nostro interesse la giornata odierna si apre con ancora qualche acquazzone qualche pioggia in spostamento rapidamente verso est lasciando al suo passaggio naturalmente un tempo piuttosto uggioso anche se il miglioramento dal punto di vista precipitativo dunque la perturbazione arrivata in tardo pomeriggio serata di ieri che ha condizionato negativamente il tempo di buona parte dell'italia nord a sud a nord tende lentamente a spostarsi verso oriente lasciando il campo a un episodio di stabilità atmosferica molto limitata perché ahimè il tempo sarà instabile anche alquanto perturbato almeno fino a mercoledì ripercorriamo assieme un po' queste tappe di quello che sarà il tempo nei prossimi giorni naturalmente il mediterraneo rimarrà sempre all'interno di una vasta circolazione depressionaria atlantica che lentamente porterà i suoi effetti proprio nel bacino del mediterraneo condizionando negativamente il tempo da domenica sera in poi almeno come vi ricordo per mercoledì sera il fatto più diciamo più tecnico è che questa depressione lentamente andrà verso il basso mediterraneo condizionando il tempo più in particolar modo sul centro sud italia gli effetti sul nostro territorio saranno una instabilizzazione instabilizzazione del tempo scusate per buona parte di lunedì con piogge tutta più moderata e qualche rovescio però attenzione perché lo scivolamento verso sud di questa depressione atlantica in sedia mediterranea come ben ricordo innescherà anche dei venti di bora o tramentano un pochino più freddi che faranno sì anche che le quote nevi le neve scenderanno un pochino sulle alpi anche sugli appennini portando naturalmente un po di aria più fredda anche le nostre attitudini tornando a noi domani questa mattina verso le 10 e mezza 11 avremo un picco di marea intorno di 100 110 centimetri con venti prevalentemente da scirocco domani si ripete una mezz'ora più tardi intorno di 100 ancora e anche la prossima settimana avremo dei picchi mareali abbastanza consistenti sempre comunque ripeto dentro l'ordine del bel mimose quindi non dovremo in alcun modo temere altri sconfinamenti oltre del mimose la giornata più di attenzione dovrebbe essere appunto tra martedì e mercoledì dove i venti di bora innescheranno un sovralto di 10 20 centimetri in più perché oggi ma saremo più espliciti nei prossimi giorni comunque naturalmente molta calma anche su questo il tempo quindi torna ad essere molto perturbato molto autunnale e ci traghetterà poi nell'ultima settimana di novembre che ci porterà poi a trovare il primo di dicembre la prima giornata d'inverno meteorologico staremo a vedere come va quindi intanto vi saluto vi auguro un buon sabato e vi ricordo la cam